Signorine, suonano adesso a me i campalacci, vero? I campalacci, suonano la canzona di cielo, valsa di cielo, suonano. Ma loro volevano vedere se voi siete capaci di parlare questa valsa. E questa valsa si parla così, alza le gambe, così si parla questa valsa, vero? Uno, due, tre, quattro! Abbiamo parlato bene! Bene! Abbiamo parlato bene! Abbiamo parlato bene!